State cercando un deck che impone il suo predominio sul campo da gioco? Volete annullare ogni singola minaccia rivale non appena metterà piede in campo? Quale leader disporrà di tali armi per soddisfare simili richieste? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando il TCG di One Piece è arrivato sui tavoli da gioco, sono stati moltissimi i leader che hanno dominato il meta, mostrandosi alla luce, lasciando in ombra altri che hanno faticato ad emergere, soprattutto nelle primissime battute. Set dopo set, però, nuovi rinforzi sono arrivati per questi ultimi, che si sono visti fornire delle armi utilissime per competere nel migliore dei modi, mettendo un piede nell'olimpo dei deck più temuti in questo quarto capitolo del gioco. Uno di questi è Crocodile, la versione monoblu. Le carte in arrivo con intrigue hanno portato un ulteriore vantaggio al sabbioso e a tutti coloro che fanno di questa tonalità un punto forte, rendendoli un nemico temuto e difficile da affrontare. Oggi quindi analizzeremo alcune delle meccaniche principali dell'ex capo della Baroque Quarks ed ex membro della Flotta dei Sette, che se utilizzate al meglio vi permetteranno di neutralizzare qualsiasi minaccia che vi ritroverete ad affrontare, spianando la strada ai vostri alleati verso le vite rivali. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Crocodile Blue, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che con i suoi 5.000 punti forza e le tipiche 5 vite a supporto vi consentirà, nella vostra fase principale una sola volta per turno, privandovi di 4 donne, di far tornare un character con costo pari a 5 o inferiore nella mano del proprietario. La decklist in questione quindi verterà tutta sul rimbalzare elementi dal campo di gioco, o in mano o sotto il deck rivale, e conterrà 4 copie di Kaia, Missile Sunday, Doflamingo Blocker, Ulti, Sentomaru, Pacifista e Soge King, la triplice copia di Sasaki, Dracul Mioc sia Counter più 2000 che a costo 9, e Kaido per il lato character, ed il quartetto di 3000 Worlds, Gangnam Red Rock e la coppia di Love Love Beam per gli event che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro i Sentomaru, che aggiungeranno presenza a bordo importante per mettere pressione all'avversario, i vari personaggi che rimbalzeranno elementi rivali come Soge King, Kaido ed Ulti, quest'ultima fondamentale se affronterete deck come quelli di Zoro o Trafalgar, con i Mioc, le Thousand e i Red Rock, che toglieranno di mezzo ipoteticamente per il resto del match qualsiasi colosso o spina nel fianco che vi vedrete giocare contro. I Doffy Blocker invece vi aggiusteranno la pescata per non far tardare le risorse che potranno quindi essere impiegate efficacemente al momento più opportuno. Tali risorse dovranno essere principalmente gli event maggiori con un supporto a seguire delle Miss Sunday, che vi permetteranno una volta messe KO di recuperare le Red o le Wards per poterle utilizzare ancora una volta ai danni del rivale. Altra sinergia da tenere bene a mente sarà quella tra le già menzionate Wards e Rock e l'effetto del leader, che in caso di chiusura del match risulteranno davvero devastanti. Infatti attraverso questo trist di abilità potrete, in un solo turno, far tornare rispettivamente due character, uno con costo pari a 5 o inferiore ed un altro generico in fondo al deck ed il terzo, sempre con costo pari a 5 o inferiore, in mano al proprietario. Altro concetto da tenere bene a mente sarà, quando avrete Sentomaro a disposizione, giocatelo ed iniziate a fare il conto alla rovescia per i pacifisti pronti per essere impiegati dal deck. Una volta che questi ultimi saranno terminati, pensate unicamente, sempre se saranno ancora vivi, a potenziare il vice ammiraglio della Marina per far sì che, anch'esso, risulti essere un'ulteriore fonte offensiva da dover gestire per l'avversario. Infine, abusate del potere distruttivo dei Kaido e dei Mi-Hawk, che bersaglieranno la maggior parte dei character presenti in gioco senza dare a chi vi giocherà contro possibilità di replica, sferrando in seguito attacchi micidiali che alla lunga frantumeranno in mille pezzi le difese rivali. Quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che lo muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Non sarà difficile in soldoni, ma dovrete riflettere bene sul come incastrare ogni giocata al meglio per non sprecare neanche un singolo don. Sfruttate al meglio i Love Love se starete a secco di risorse in mano per pescare una carta e sventare un assalto. Utilizzate la combinazione tra 3000 e Red Rock per gestire la board o semplicemente di Kaido per avere anche presenza sul campo di battaglia. E valutate anche l'utilizzo di Sasaki se la mano, anche dopo il mulligan, non vi soddisferà a pieno. Altra cosa da tenere bene a mente sarà, pensate con un turno di anticipo. È vero che avrete blocker molto forti come Doffy e Sunday, ma finiti quelli vi rimarranno solo i più 2000, quindi agite in anticipo utilizzando appena potrete i vostri counter dalla mano per mantenere una presenza board che metterà pressione turno dopo turno. Per la fase offensiva ci saranno le ulti, se gli assegnerete un Don, i Pacifista, i Sogeking, i Mioka a costo 9, i Kaido e all'occorrenza anche i Dracola a costo 4, i Sentomaru soprattutto dopo che avrete finito le cariche e i Doflamingo che essendo comunque 4k con un piccolo aiuto potranno minacciare quel che basta il leader rivale. Per quella difensiva invece possiederete gli stessi Doffy e le Sunday che muoveranno le fila dell'intero deck, essendo essenziali una volta scesi in campo. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo gli unipresenti Doffy, i Sentomaru, le ulti soprattutto contro Zoro o Traff, oppure al suo posto le Sunday, una 3000 ed un Red Rock. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Anche se, come già detto, c'è sempre Sasaki. Parlando di matchup ve la giocherete bene un po' contro tutti ad eccezione fatta di Zoro che a forza di attaccare in continuazione vi vedrà sempre in debito di risorse atte a contenere l'assembramento di personaggi sul proprio terreno, che alla lunga risulteranno essere davvero pesanti da dover gestire. Per non parlare dei Trafalgar che, a forza di scambiare pezzi, riusciranno a fare molti più attacchi in un singolo turno, prosciugando il più delle volte le vostre armi difensive. Per tutti gli altri leader, procedete sempre con cautela. Per la win condition in realtà Croco non eseguirà una ben specifica, ma quando sarà disponibile ve ne accorgerete. Mi spiego meglio. A forza di rimbalzare cose o in mano o in fondo al deck, l'avversario si ritroverà sempre a dovervi rincorrere e, a forza di fare, all'improvviso vi si aprirà una finestra di opportunità che, se la coglierete, vi consentirà di tirare i dritti verso la vittoria finale. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno ovviamente gli onipresenti Doffi, le Sundae, per riprendere in mano gli Event, i Sentomaru, con pacifisti al seguito, i Sogeking, i Miok, costo 9, i Kaido, le 3000 World e le Red Rock. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione i più 2000, che vedranno Kaia, Sasaki e Miok per i character, e i Love Love Mellow per gli Event, che se utilizzati al meglio, vi garantiranno un vantaggio davvero notevole da sfruttare al massimo durante una partita. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Crocodile parte per primo, ma anche per secondo. In che senso? Per lui un gioco lungo sarà l'ideale, proprio perché appena avrà a disposizione 10 Don potrà iniziare ad incastrare tutte le giocate che abbiamo menzionato fino ad ora, ma arrivarci con un turno di ritardo invece che impiegarci 5 round spaccati non gli farà molto la differenza, proprio perché a 9 potrà impiegare Miok e a 10 Kaido, quindi in fin dei conti non vi cambierà molto la dinamica del deck. Anche se vi parlo per esperienza personale, ho preferito molto iniziare per secondo, avendo la possibilità di pescare una carta in più, giocando in curva ogni singolo elemento avuto a disposizione durante i vari match che ho disputato. Concludendo, Crocodile finalmente, con l'arrivo di questi supporti presenti in OP04, ha consacrato il suo stile di gioco, dando del gran filo da torcere ai leader più blasonati, che ora come ora dovranno guardarsi le spalle temendo come non mai le sabbie del deserto. E voi lo avete già provato in qualche partita amichevole o addirittura in un torneo locale? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.